Ciao ragazzi, dunque eccoci, eccoci, non è ancora finita, almeno sto registrando il video che la partita non è ancora finita ma siamo al 94, quasi, siamo al 92 e 51, quindi ormai la partita è quasi finita, la Juventus è in vantaggio 5 a 0 sull'Elas Verona, Juventus Women, è una partita, una vittoria importante, possiamo dirlo perché mancano 50 secondi una vittoria importante, considerando che il Milan ha vinto a San Gimignano e come avevo preventivato il Milan avrebbe avuto bisogno di una vittoria sporca a San Gimignano e così è stata una partita difficile per loro vinta su un'ingelità difensiva della Florenzia e soprattutto grazie alle parate di Corenciova ma ciò non la toglie però, nel senso anche la Juve ha vinto in maniera sporca a San Gimignano ma proprio perché so che San Gimignano è un campo difficile per quanto riguarda questa partita qua, in realtà non è che ci sia molto da dire la Juve ha fatto una partita spettacolare, ha preso a pallate l'Elas Verona anzi, a dire la verità, il risultato nel primo tempo è anche stretto si è chiuso il primo tempo 4 a 0 con le reti di Urtig, di Pedersen, di Girelli su rigore e Bonansea insomma, ma credo che il discorso era già ampiamente indirizzata alla partita nel primo tempo nel secondo tempo la Juve si è permessa di fare molto turnover e questo ha consentito insomma l'Itaguarino di, è andato finita in questo momento, ha consentito l'Itaguarino di far rifiatare le sue giocatrici migliori in vista di mercoledì che c'è la Coppa Italia con l'Empoli, andremo a giocare a Empoli e in vista delle prossime di campionato oltre alla partita che ci aspetta mercoledì, insomma, ci sono un bel periodo bello intenso e detto questo poi è arrivato il gol di Zamanian che ha chiuso la partita sul 5 a 0 quando ormai le squadre stavano portando avanti la partita fino ormai al novantesimo e niente, non è che ci sia molto da dire come ho detto, la partita totalmente dominata e totalmente in controllo della Juve, Verona mai pericoloso e ottima Juventus Women che mantiene questi tre punti di vantaggio che in questo momento sono fondamentali contro il Milan. Ragazzi a me non resta che salutarvi, devo dare la migliore in campo, la do a Urtig perché i primi gol sono tutti nati dalle sue giocate, il primo l'ha segnato lei ma poi ha saltato sempre l'avversario, ha fatto una grandissima partita e secondo me è stata la migliore in campo. Dunque Juventus batte la Sverona Women 5 a 0 e mantiene la testa della classifica con più tre punti sul Milan che ha vinto a San Gimignano, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video del canale, ciao a tutti, ah prima di chiudere vi ricordo che alle 5 e mezza inizia l'Under 23, terminato l'Under 23, video post pro sesto di Juventus Under 23, fino alla fine forza Juventus Women